La legge sulla tracciabilità dei prodotti alimentari al Consiglio regionale del Lazio, previsti interventi di educazione alimentare, promozione e incentivazione di sistemi per garantire la qualità dei prodotti di origine alimentare. Ammontano oltre 7 milioni di euro i finanziamenti alle piccole e medie imprese erogati da Filas, S.P.A., 68 i progetti innovativi finora coinvolti, i bandi resteranno aperti fino al 30 giugno 2013 o a esaurimento dei 58 milioni cofinanziati dall'Unione Europea. Chiara Colosimo è la nuova Presidente della Commissione Mobilità. La nuova votazione, ha spiegato il Presidente del Consiglio regionale Mario Abruzzesi in apertura della seduta, si è resa necessaria in seguito alle dimissioni di Giovanni Di Giorgi. Ok dalla Commissione Affari Istituzionali all'erogazione a favore di sviluppo Lazio di 400 mila euro per la copertura delle spese di gestione e le attività di risorsa SRL in liquidazione per il periodo dal 1 gennaio 2011 fino alla data di scioglimento. Grazie a tutti.